Sì, anche secondo me non rispecchia la partita, però nel calcio sapevamo di incontrare una squadra davvero forte, quindi non era assolutamente facile. Abbiamo provato a giocare, abbiamo provato a creare qualcosa, ci siamo anche riusciti, è mancato il gol e a mio avviso è mancata la reazione dopo il primo gol perché non era finita ancora la partita e dobbiamo migliorare assolutamente in questo. Antonio hai toccato probabilmente da giocatore esperto quali sei i due punti importanti, il primo che questa squadra continua a far fatica a segnare e poi che dopo le reti subite non riesce a reagire, perché tutto questo? Ma non c'è una spiegazione logica perché proviamo come sempre, lavoriamo tantissimo sulle azioni offensive, come sapete, non ci riesce a far gol e dobbiamo migliorare assolutamente in questo e poi si può migliorare solamente con lavoro tutto ciò. Di sicuro la concorrenza è una concorrenza sana, quindi siamo tutti e tre bravi giocatori, esperti, quindi io ho sempre detto che chi gioca gioca, l'importante è il bene del Pescara. A proposito di Pescara, dopo questa sconfitta, la seconda battuta d'arresto consecutiva, resta questa classifica indecifrabile, Pescara nel limbo proprio di metà classifica, ma qual è il valore di questa squadra e soprattutto qual è l'obiettivo di questa squadra? L'obiettivo sicuramente è migliorarsi partita dopo partita, quindi noi lavoreremo come ripeto abbiamo fatto fino ad oggi e cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile. Siamo una rosa competitiva, di conseguenza abbiamo le possibilità di farlo. L'ultima da parte mia, a Carpi hai fatto una partita perfetta dopo una lunga inattività, in silenzio sei tornato in campo titolare, non chiedi un po' più spazio visto le prove positive che stai facendo? Mi conoscete, io lavoro e il mister decide e io eseguo, quindi l'importante ripeto è il bene del Pescara. Per chiudere Antonio, volgiamo lo sguardo alla gara di sabato con la Salernitana, anche alla luce della rimonta subita all'andata dal Pescara alla Rechi, anche dopo queste due sconfitte consecutive, quella contro i Campani, l'ennesima gara spartiacque di questa stagione da non fallire. Sicuramente abbiamo una partita difficile perché incontriamo una buona squadra, però siamo in casa e abbiamo tanta voglia di riscatto, quindi sicuramente faremo di tutto per portare a casa il maggior risultato. Grazie ad Antonio Balzano.